Sono Francesca Raffi, sono dottore di ricerca in lingua inglese, episcopi speciali e docente di lingua e traduzione inglese presso il corso di laurea triennale in discipline della mediazione linguistica e presso il corso di laurea magistrale in lingue moderne per la comunicazione e cooperazione internazionale. Oggi vi parlo del corso di traduzione per la promozione turistica all'interno del nostro corso di laurea triennale, quindi in discipline della mediazione linguistica. Prima di tutto perché il turismo? Perché è senz'altro uno dei settori cardine del lavoro di traduzione, data la sua importanza da un punto di vista economico, culturale e sociale, quindi è il luogo di incontro ideale tra culture e lingue diverse e necessariamente il traduttore gioca un ruolo fondamentale. Data l'eterogeneità di questo settore, ci concentriamo su testi appartenenti a generi testuali diversi, siti web, materiale pubblicitario, informativo e istituzionale e ambiti di specializzazione differenti che richiedono quindi una grande duttilità da parte del traduttore. L'obiettivo è infatti quello di apprendere e applicare le strategie traduttive più adeguate alle funzioni comunicative dei testi da tradurre e quindi al pubblico destinatario o target audience. Per fare questo ovviamente è necessario prima di tutto imparare ad analizzare un testo, nel nostro caso ovviamente turistico, quindi studiarne le caratteristiche lessicali, terminologiche, pragmatiche e stilistiche. Questo è il primo passo che poi ci porta verso la traduzione, quindi la resa in una lingua di arrivo del significato espresso in una lingua di partenza in linea sempre con le istruzioni ricevute nell'incarico di traduzione. Per lingua di partenza si intende la lingua in cui è redatto il testo originale, detto anche infatti testo di partenza, mentre la lingua di arrivo è la lingua in cui è tradotto il testo di partenza. Nel nostro caso ci concentriamo ovviamente sulla coppia linguistica inglese-italiano e per la prima parte del corso ci occupiamo della traduzione passiva, quindi dalla lingua straniera alla lingua italiana. Nella seconda parte del corso la combinazione linguistica viene invertita e ci concentriamo quindi sulla direzione inversa, da italiano a inglese. Il corso ha lo scopo non solo di formare traduttori in ambito turistico, ma anche revisori di traduzioni di testi turistici, cioè per revisione si intende l'analisi e l'eventuale correzione di un testo tradotto. I testi su cui lavoriamo sono materiale autentico, quindi lavori svolti o che potenzialmente potrebbero svolgere traduttori professionisti e che provengono da organismi internazionali, agenzie nazionali del settore pubblico, del settore privato, istituzioni governative e queste sono solamente alcune delle nostre fonti. Infatti il corso combina la componente prettamente linguistico-traduttiva a quella professionale. Studiamo quindi come preparare un preventivo di traduzione, come stabilire le tariffe, come calcolare i tempi di lavorazione di un progetto di traduzione, in relazione ovviamente ai costi e alle esigenze dei clienti e come gestire un progetto di traduzione nella sua totalità. Proprio per questo la classe viene suddivisa fin dalle prime lezioni in agenzie di traduzione composte da 5-6 studenti. Ciascuno svolge un ruolo, ovviamente i ruoli verranno poi invertiti e all'interno di ciascuna agenzia troveremo quindi traduttori, revisori e responsabili dei progetti di traduzione, quindi coloro che si occupano della gestione operativa del progetto, l'avvio, la pianificazione, il controllo del progetto stesso, la gestione delle risorse umane, quindi degli altri componenti dell'agenzia, la suddivisione dei lavori, le tempistiche, il tutto per ottenere il massimo dei risultati entro tempi e costi prestabiliti, di cui discutiamo a lezione. Le attività, anche quelle da svolgere durante il lavoro individuale, vengono quindi considerate dei veri e propri progetti di traduzione e i componenti di ciascuna agenzia collaborano quindi sia in presenza a lezione, sia a distanza, per gestire progetto e consegne. Durante il corso dialoghiamo, anche se a distanza, con i professionisti del settore, attraverso piattaforme che consentono l'incontro di domanda e offerta nel settore della traduzione. In questo modo riusciamo quindi sempre ad offrire una visione globale del lavoro di traduzione da un punto di vista sempre professionale. Non mi resta che dire che il nostro corso di laurea triennale in discipline della mediazione linguistica vi aspetta.